Avvocato Delprete, parliamo di sport e parliamo di diritto con lo sport, diritto sportivo, diritto penale e diritto amministrativo. Di solito quando c'è una società, quando c'è una persona che fa parte della struttura sportiva di una federazione, quali sono i tribunali che intervengono? C'è la clausola compromissoria grazie alla quale gli iscritti ad una certa federazione, federazione calcio, federazione nuota, federazione tennis, tutte le federazioni dei vari sport, sono obbligati a rivolgersi alla giustizia di quella federazione. Però, un attimo, questa non è una negazione della giustizia e del potere di amministrare giustizia da parte dello Stato e dello Stato italiano, anche perché poi è uguale così in quasi tutti gli strani del mondo. In pratica ci si deve rivolgere alla giustizia sportiva per fatti direttamente conseguenti l'agonismo. La giustizia ordinaria non potrà mai annullare un gol o concedere un rigore nel modo più assoluto. O anche un incidente durante una partita. Sì, un incidente che non abbia rilevanza penale, sicuramente di competenza soltanto della giustizia amministrativa. L'amministrativa della federazione calcio, della federazione tennis, atletica leggera, nuota, quelli della singola federazione. Cosa differente, e l'abbiamo accennato ora per incidence, è l'ipotesi del reato, che è qualcosa di differente. Noi abbiamo avuto i processi sul calcio scommesso, perché lì c'erano dei reati, la frode, tante altre cose. E ha proceduto la giustizia penale. In quel caso la causa non c'entrava venire, perché è il diritto dello Stato a perseguire i reati. Cosa differente è quando la giustizia amministrativa dello Stato italiano, cioè TAR, Consiglio di Stato, si occupano di sport. Questo può accadere soltanto quando si tratta di casi particolarissimi. Per esempio dell'ammissione a un certo girone, a un certo livello, tipo serie A, serie B, serie C, serie direttante e così via, oppure al professionismo meno da parte di atleti, eccetera, quando riguarda fatti che hanno rilevanza per l'ordinamento giuridico italiano. I campionati sportivi, particolarmente i campionati di calcio, eccetera, hanno una rilevanza per l'ordinamento giuridico italiano. C'è tutto un collegamento molto complicato tra chi li gestisce, il CONI che è sempre sovrano un po' in tutti gli sport, anche in quelli professionistici. Sì, perché molti di sport che fanno capo a federazioni sono considerati sport dilettantistici, cosiddetti sport olimpici. Poi anche alcuni sport professionistici, come il calcio, vengono ad essere sport olimpici l'anno delle Olimpiadi. Quindi la situazione non è affatto semplice. Ma in questi casi, in tutti questi casi fatti specie, bisogna ben vedere, perché molto spesso, la competenza dei tribunali amministrativi, quindi del TAR e del Consiglio di Stato in appello.